Fare i conti con l'ambiente, un pomeriggio dedicato a diversi progetti LIFE. Siamo con Sara Tessitore dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per parlare del progetto PREFER. Il progetto PREFER è, come dicevi tu, un progetto finanziato dal fondo LIFE Plus della Commissione Europea. È un progetto che sperimenta una metodologia molto nuova, la Product Environmental Footprint, ovvero una metodologia che mira a misurare l'impronta ecologica di prodotti e servizi. Questa metodologia è stata approvata dalla Commissione Europea nel 2013 e per la prima volta in Italia viene sperimentata su otto prodotti appartenenti, diciamo che rappresentano otto distretti produttivi, come ad esempio il Cartario di Lucca oppure il distretto Tessile Lombardo, insomma tante realtà del nostro territorio. Il progetto diciamo in questa fase è all'incirca a metà, abbiamo condotto le prime sperimentazioni e nei prossimi mesi ci appresteremo a lavorare con delle aziende di vari settori che volontariamente si sono candidate per attuare questa metodologia tra i primi in Europa perché la Commissione attualmente sta svolgendo tutte delle fasi di test e quindi è tutto ancora molto innovativo anche da un punto di vista ambientale. L'obiettivo di questa metodologia è quello di misurare le caratteristiche ambientali, le prestazioni ambientali di prodotti e servizi in modo da renderle comparabili da parte dei consumatori così potranno scegliere veramente quelli che sono più sostenibili per l'ambiente. Grazie, fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.